Dal 15 maggio al 17 giugno la mostra Contatto di Segni di Antonio Finelli, la prima antologica nei saloni espositivi di Palazzo Gil di Campobasso. Finelli è un artista molisano originario di Riccia ma da molti anni residente a Roma che ha caratterizzato la sua arte tramite autoritratti e concentrando la sua attenzione su particolari del corpo umano. Sono fortemente felice per questa cosa anche perché è una mostra che riguarda il Molise e la maggior parte dei soggetti sono soggetti molisani conosciuti proprio durante gli anni in cui ho vissuto in Molise quindi è bello ritornare con una grande mostra che rappresenta il Molise e raffigura il Molise attraverso i personaggi tipici. I primi lavori sono dei lavori molto iperrealisti quindi era quasi un po' ossessiva la ricerca del dettaglio e la riproduzione fedele. Successivamente ho sempre mantenuto questo aspetto però ho cercato magari di focalizzare l'attenzione su dei dettagli e tralasciare degli altri però è così amo questa perizia tecnica che riporto quasi sempre nei miei disegni. Mi piace molto il corpo, i segni che questo corpo ha su di sé magari dovuti al tempo, all'esperienza vissuta e cerco di raccontarli attraverso le matite appuntite che utilizzo per la riproduzione dei miei lavori. Il curatore della mostra Lorenzo Canova parla di unicità nell'espressività artistica di Finelli. Questa esposizione è dedicata a Antonio Finelli che è uno dei migliori artisti italiani delle giovani generazioni, molto stimato anche da Vettorio Sgarbi ha anche un grande successo in importanti gallerie nazionali e internazionali. La mostra ha tante implicazioni, una è anche quella una riflessione importante sul tempo, sul tempo dell'esistenza delle persone soprattutto, quindi anche sull'invecchiamento ma come momento importante della vita non come negazione. Grazie a tutti.